Buonasera ragazzi di Tagliere Gas, sono Aldo Ciccone, Racing Manager di Dunlop. Abbiamo deciso di supportare questo progetto di Suzuki della nuova Ruyo equipaggiando la moto con il nostro top di gamma, abbiamo utilizzato la misura 205-60-17 al posteriore modello KR108 mescola MS2 e novità assoluta per questa moto equipaggiamo l'anteriore con la nuova misura 125-80-R17-KR109 è un progetto nuovissimo di Dunlop con una nuova costruzione che nei prossimi mesi sarà disponibile anche per voi che utilizzate le moto normalmente in pista.